Buonasera a tutti, sono Garnet Tila Alexandros e volevo dirvi non comprare assolutamente il defilatore Silkepil, quello che si mettono in freezer, perché sia se lo metti nel freezer, sia se non lo metti va male ugualmente, quindi non compratelo perché spendete un mucchio di soldi e non serve a niente.